Partiamo dai gol più ufficiali, Nico González e Konsei Sao, che sono due esterni che sono arrivati per rafforzare il pacchetto della tre quarti, Nico 38 milioni che sono in realtà 8 milioni di prestito oneroso iniziali, 25 di obbligo di riscatto, 5 milioni di costi uguali. La capa in tre esercizi però. Vabbè sì, quello in realtà è una cosa di prassi diciamo. E Konsei Sao che è arrivato con questa formula particolare che magari spieghiamo perché si è fatto un po' di confusione secondo me su questa roba qui, in positiva e negativa, cioè in difesa dell'operazione e in attacco dell'operazione. Però si è fatto confusione per una malinformazione secondo me. Cioè? Anche, anche, tanto. Da parte degli organi preposti a dare le informazioni di calciomercato. Ah, per il discorso dello stipendio messo dentro il... sì, quella è una roba folle. Secondo me è sbagliatissimo, a livello comunico. Sì, sì. Cioè il fatto che abbiano messo lo stipendio dentro... Gliel'hai letteralmente addoppiato, cioè gliel'hai proprio sì. Perché letta inizialmente come ce l'hanno presentata subito, non è una operazione che mi convinceva, eh. Anzi, invece è così. Ma in generale, in generale è un'operazione che, se non capisci il contesto dell'operazione, ti lascia un po' interdetto. Perché il prestito secco, oneroso, comunque il prestito oneroso è alto, anche se ci dogli lo stipendio per essere un prestito secco. E dici, ma a che serve? Però poi si legge della dossier presidenziale. L'idea è che, siccome lui ha una clausola recessoria a 30 milioni, se non erro, che è valida fino alla prossima estate, la Juve anticipa l'acquisto perché al momento occuperebbe a bilancio dei fondi che magari vuole investire appunto in Copmainers o in altri giocatori. E quindi fa, diciamo, fa soltanto il prestito pagando una cifra iniziale, se lo prende per un anno e poi l'anno prossimo, trattando con il porto, avendo magari una corsia preferenziale nella trattativa che ha stipulato già quest'anno, riesce a portarlo a casa complessivamente. Quindi facciamo 35 milioni, che saranno più o meno i 5 che paghi, perché i due dei bonus dovrebbero essere legati alla qualificazione in Champions, quindi ipotizzo che siano abbastanza facili da raggiungere, che paghi adesso. È un po' come quando prendi un giocatore in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Cioè potresti prenderlo a zero aspettando sei mesi, paghi una cifra per averlo prima e questo è un po' il ragionamento. Solo che chiaramente Giuntoli l'ha fatto per evitare di mettere a bilancio troppo, cioè un carico da 30 milioni. Quindi secondo me ha senso così come operazione, siccome chiaramente non è stata ben spiegata, secondo me dalle notizie, oltre che come ha detto Ale, è stato proprio messo dentro lo stipendio, non aveva senso questa roba qua, si è fatta un po' di confusione. Però si è fatta anche un po' di confusione perché ho letto anche i milioni del prestito oneroso non vanno messi a bilancio, non è così, quelli vanno messi tutti diretti subito a bilancio, solo che chiaramente sono appunto 5 milioni rispetto a quanto potrebbero essere se ne paghi 30, con l'ammortamento, lo stipendio, bla bla bla. Non so se sono stato chiaro, sono discorsi un po' complessi questi qua, però diciamo che comunque è una buona operazione, questo è il riassunto. Se effettivamente va così, perché immagino che poi l'accordo col porto ci sia per prenderlo. Nico Gonzalez secondo me è una buona operazione economica per come è suddiviso le cose, forse come prezzo totale se ne potrebbe parlare su quanto sia stato pagato, se è troppo, perché effettivamente la cifra non è bassa, però insomma, in generale per come è suddiviso secondo me anche lì è fatto una buona operazione. Però parliamo di campo invece, come vi sembrano questi acquisti, se secondo voi possono dare una mano alla Juve e come possono darla? Partituale. Magari adesso ci lascia con un'altra ProPic. No, con CSAO devo essere onesto perché non devo vendere niente a nessuno, l'ho visto giocare pochissimo, più che altro nel Portogallo, magari da subentrato, raramente nel Porto, quindi non so effettivamente quale sia il suo livello, però so che è un giocatore abito da diverse squadre europee, che ha una clausola importante, solitamente i giocatori che escono dal Porto giovani sono giocatori di qualità, quindi mi aspetto un giocatore interessante che con i dettami di Tiago Motta può crescere. È un giocatore che mi sembra molto, tra virgolette, anarchico, un po' una scheggia impazzita, quindi forse anche un po' in antitesi con quelle che sono le richieste di Tiago Motta, ma potrebbe magari essere quel giocatore che a partite in corso oppure in una situazione bloccata può dare una mano alla squadra, quindi ben venga. Ripeto, però non lo conosco a sufficienza per poter dare un giudizio troppo approfondito. Nico Gonzalez, avendolo visto, se questioni lavorative e tutto quello che volete, lo vedo ogni settimana e quindi so che tipo di giocatore è. Nico Gonzalez, non è che devo cambiare idea perché è andata alla Juventus, credo che sia un ottimo giocatore, potenzialmente forte, però secondo me al momento non è mai stato un giocatore così tanto forte quando il livello della competizione si è alzato. Nico Gonzalez viene da stagioni con numeri importanti, è un giocatore di qualità, che ha un ottimo mancino, che se calciare in porta, che pur non essendo altissimo è fortissimo di testa, perché di testa Nico Gonzalez è fortissimo, ha un'elevazione che in pochi giocatori hanno nel nostro campionato. Che è una cosa che manca alla Juve negli esterni. Esattamente. Mi sembra un giocatore che pecca un po' di personalità quando si alza il livello. Tuttavia, come ho scritto in un commento nel nostro gruppo Facebook, questa cosa alla Juventus può cambiare, ma non perché alla Juventus ci sia un ambiente magico dove il giocatore da X diventa Y. Perché? Nico Gonzalez, per qualità, per blasone, per cifra del cartellino spesa all'inizio, era il giocatore di punta della Fiorentina. Il giocatore che doveva cambiare le sorti della squadra. Se effettivamente però non ti chiami Lionel Messi, non ti chiami Cristiano Ronaldo, non ti chiami Neymar Junior, anche se sei alla Fiorentina, anche se la competizione di riferimento può essere la Conference League, non è facile cambiare il passo, cambiare le sorti della squadra. E secondo me lui ha peccato, ad esempio lui ha fatto due brutte finali di Conference, specialmente l'ultima dove è stato il peggiore in campo. Però non essere il giocatore di riferimento, ma essere uno dei tanti in una squadra importante, con nuove motivazioni per quello che è un trasferimento fino a questo momento, con tutto il rispetto per le squadre in cui ha giocato, tra il più importante della sua carriera, può dargli una mano. Adesso Nico Gonzalez non sarà più il direttore d'orchestra, ma uno dei tanti strumenti a disposizione di quello che sarà il direttore, in questo caso Tiago Motta, e quindi credo che invece, appunto, non essere il leader indiscusso, ma uno dei tanti protagonisti, possa fargli bene. Io mi immagino, mi immagino, guarda, faccio un paragone con due serie a me molto care. Una sono i Soprano e una è Lost. Nei Soprano c'è Tony Soprano che regge tutta la serie. Ci sono tanti protagonisti importanti e eccezionali, però c'è lui che regge. Nico Gonzalez alla Fiorentina era chiamato a essere il Tony Soprano, quello che doveva reggere le redini della squadra. Non era in grado di farlo, oggettivamente. Lost è una serie molto più corale. Ci sono dei protagonisti più importanti, ma alla fine la storia si bada sulla coralità del gruppo, sulle storie. C'è Jack, c'è Kate, c'è Erle, c'è Saeed, ci sono tanti protagonisti. Nico Gonzalez, delle vesti di uno di questi tanti protagonisti, secondo me, può recitare un ruolo ancora più importante, o quantomeno più funzionale, rispetto a quello di un unico giocatore che non sa tenere il passo come un unico protagonista. Quindi questo su Nico Gonzalez, su Konsei Sao, purtroppo non posso essere troppo esaustivo. Infatti io sono d'accordo con te. Konsei Sao è un giocatore... Allora, Nico Gonzalez lo conosciamo tutti, può essere funzionale, eccetera. A me è un giocatore che non fa impazzire tendenzialmente, però per la Juve può essere un ottimo acquisto, alzi il livello sicuramente, ti dà caratteristiche che non hai. Come hai detto, può essere molto utile perché non ha più quelle responsabilità e quindi paradossalmente potrebbe anche rendere meglio. Quando c'è il salto da una squadra più piccola a una squadra più grande, con tutto il rispetto per la Fiorentina, chiaramente di solito c'è la paura che le prestazioni possono abbassarsi. In questo caso, invece, potrebbero alzarsi per quel motivo che dici tu. Quindi è un buon colpo, un buonissimo giocatore può fare la differenza. Però, Konsei Sao, secondo me, la variabile pazza è pure un giocatore anche più interessante perché è più giovane, è un ala driblomane per chi non l'avesse visto. Comunque, l'ho visto principalmente chiaramente a livello di partite giocate in Champions e con il Portogallo ha pure segnato tutto il primo gol dell'Europa e del Portogallo, Sao Nero era il primo decisivo all'ultimo minuto. E quindi è un ala driblomane bassina, particolare, punta l'uomo, ha anche gol e assist nelle gambe perché l'anno scorso Sao Nero ha fatto otto gol, otto assist. Secondo me sarà la grande scoperta, lo dicevo anche l'altro giorno, è la grande sorpresa perché Nico Gonzalez lo conosciamo tutti e quindi ci aspettiamo X. Lui, giocando appunto nel campionato portoghese che è meno visto o al massimo come me, l'hai visto in Europa, l'hai visto nell'Europeo, l'hai visto negli highlights di Dazon, eccetera, perché loro fanno passare nel campionato portoghese e sei un po' più sul vediamo come va, vediamo chi è, non lo conosco. e secondo me sorprenderà perché ha tutto il potenziale per fare benissimo, chiaramente ha una struttura fisica diversa rispetto a Nico che è comunque uno che può reggere anche di più fisicamente, lui è molto più bassino e ha queste componenti fisiche, queste caratteristiche che se ci pensate nella Juve sta mettendo insieme tanti giocatori da questo punto di vista diversi per poter avere tante alternative in base alle partite, eccetera, eccetera, però ripeto, da Nico mi aspetto X, da Consesao posso aspettarmi anche qualcosina in più perché magari c'è il fattore sorpresa, quindi non mi sorprenderebbe a fine stagione parlare meglio, meglio, sì, 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 cioè lo metti a destra sai che rientra a sinistra, sai che fa quelle cose, sai cos'è, Nico Gonzalez comunque è una che ti aspetti esploda, comunque ha 26 anni e quel giocatore lì può fare benissimo, con Seisao può pure diventare qualcosa che ancora non è mai stato alzando ancora di più il livello, quindi mi aspetto veramente che possa esplodere e fare benissimo perché ci credo molto questo ragazzo talentino perché sembra molto molto forte, molto molto interessante, e poi effettivamente giustamente c'è Bangula che ci cita ci cita Chris in chat e dici beh, intanto devi togliere il posto a Bangula ma io sono convinto che Bangula farà tante partite quest'anno sì, 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 poi vabbè chiaramente sì, chiaramente se arriva Nico Gonzalez e se arrivano con Seisao il minutaggio non sarà quello della titolarità ufficiale con Seisao in questo momento ottimo però Bangula ha dimostrato che nella Juventus ci può stare e soprattutto per come ragiona Tiago Motta che a quanto parla il suo cavallo di battaglia è la meritocrazia lui fin da subito ha detto gioca a Bangula perché Bangula merita di giocare magari dopo avremo Nico avremo con Seisao ma se per quella partita per come si allena Bangula meriterà di giocare io sono convinto che giocherà senza alcun tipo di problema e poi come dicevo prima siamo nell'era dei cinque cambi parlare di titolari di riserve secondo me lascia il tempo che trova perché un giocatore può essere importante anche se gioca 30 minuti la partita prima 60 la partita dopo l'importante è come li gioca e secondo me adesso c'è la possibilità c'è la sensazione che possono rendere tutti al meglio è importante il fatto di aver comunque preso dei giocatori che rieccano a dare la propria risposta con caratteristiche differenti io purtroppo non ci posso fare niente a me la situazione di Chiesa fa male io sono uno dei fan più accaniti di Federico Chiesa l'ho anche visto segnare dal vivo la partita esattamente precedente a quella all'infortunio che poi lo ha condizionato è un giocatore che mi ha sempre fatto impazzire anche nel modo in cui umanamente affrontava gli impegni perché è un giocatore sempre preciso puntuale sembra un bravo ragazzo però a volte quando non hai un agente che ti diciamo fa fare non so se si sente qualche umore di sottofondo va va tranquillo ok no diciamo a volte quando hai un agente che non ti fa fare un esercizio di consapevolezza umana ma ti porta a puntare in alto perché devi puntare in alto perché se vivi con Chiesa finisce in questo modo però devo dire la verità quando diciamo adesso che avremo da affrontare molte più competizioni le cose si fanno più delicate a me diciamo il fatto che Chiesa sia molto fragile fisicamente comunque diciamo spinge a pensare che probabilmente sia meglio così sebbene comunque Niko González non sia un giocatore e anche lui comunque anzi è uno che si infortunia spesso e anche diciamo per brevi tempi però si infortunia e adesso possiamo parlare quasi ufficialmente ufficiosamente di un centrocampo che almeno sulla carta potrebbe essere formato da appunto Douglas Luiz Pop Maners e Turano cioè è una cosa spaziale cioè l'anno scorso se avessimo pensato a una cosa di questo tipo non ci avremmo creduto cioè stiamo parlando di un centrocampo che è giovane è forte ha esperienza e i cui di cambi sono fagioli e locatelli e insomma vari azici eccetera quindi è veramente una cosa importante e chiaramente bisogna far coesistere tutti questi calciatori insieme ma io su Tiago Motta ho diciamo pochi dubbi sul fatto che ci possa riuscire e come dicevamo in chat con Seisaro è probabilmente la scheggia impazzita di cui avrebbe avuto bisogno la Juventus se non l'avesse preso perché Nico è un giocatore meno diciamo meno come posso dire è meno lampante ecco va meno a sprazi è uno che sta più sul pezzo è la partita si inserisce lotta gioca con Seisaro invece potrebbe essere quell'arma tattica che è messa magari all'ultimo agli ultimi minuti in un secondo tempo di una partita bloccata poi noi spesso ci dimentichiamo del fatto che in realtà nella batteria degli esterni pare di entrare anche che è la Nildiz che in realtà fa tutto è questo un tema è l'esterno è la seconda punta è la prima in alcuni momenti cioè il Riz ha avuto la 10 quest'anno nella Juventus questa non è una cosa da poco nella Juventus la 10 è la vuta del Piero dopo del Piero l'hanno avuta Tevez che è probabilmente il giocatore che ricordiamo con più nostalgia nei Juventini negli ultimi dieci anni e l'ha avuta Pogba quando meritava di avere la 10 e se inizia avuto la 10 l'ha avuta di bala l'ha avuta di bala se appunto inizia avuto la 10 vuol dire che l'ha avuta con merito e che probabilmente è veramente il fulcro proprio di futuribilità diciamo di questa squadra su quello su cui si punta fortemente cioè l'irrinunciabile perché la Juve ha lottato anche per fargli rinnovare il contratto No, questo intanto disattivo la camera che magari laggo di meno scusate mi omaggio al volo questo discorso interessante che fai è da aprire sull'ambito Cobb Mainers secondo me perché poi effettivamente potrebbe agire da trequartista quindi vediamo se toglierà minutaggio o meno intanto apro una piccola parentesi su questa riflessione che faceva Chris che effettivamente è interessante sul discorso delle tante partite quindi secondo me è giusto avere tanti giocatori e poi al massimo come diceva Manfro si può ragionare sull'investimento cioè su quanto tu debba investire in attacco quanto in centrocampo quanto a difesa e bla 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 però non scordiamoci che la Juve quest'anno come l'Inter in Italia dovrà fare a fine anno in piena estate anche il mondiale per club che è una competizione in più è una competizione importante che ti porta un sacco di soldi quindi c'è anche quello da considerare non solo Champions campionato Coppa Italia Supercop parla di Supercoppa a Juve sì sì perché ha vinto la Coppa Italia certo scusate avevo avuto un piccolo lapsus c'è una piccola dimenticanza per cui ha mille competizioni in realtà e poi c'è pure il mondiale per club che è questa competizione vecchia ma nuova nel senso c'era già annualmente adesso c'è questa competizione non se ne sentiva il bisogno però di aggiungere ancora partite beh però effettivamente ha dato un bel turbo economico perché comunque paga nel senso che io non nemmeno quando in generale non sei fan sì sì non sono fan sì anche perché poi diventa una Champions 2 probabilmente questo è un po' il discorso detto questo io passerei e poi come dice lui insomma il fatto che ci sono dei giocatori che possano fare più ruoli insomma anche lo dicevo anche questa pletora di giocatori Nico González secondo me può fare più ruoli nella tre quarti insomma è vero può fare anche la punta tutta la linea esatto tutta la linea è il triangolo esatto offensivo Eventus dalla cintola in su ha tanti giocatori che possono fare tanti ruoli ci possiamo aggiungere per cambiare sì queste sono cose importanti probabilmente a tanti secoli bisogna sì in un certo senso comunque visto che abbiamo parlato degli esterni parliamo appunto di questo colpo freschissimo questo questo Derwee Land che è arrivato di Cobmainers 52 milioni più 7 di bonus quindi la cifra di cui si parlava da qualche settimana allora faccio faccio un piccolo preambolo dicendo che secondo me si è fatta si è creata tanta credina e tanta polemica su questo trasferimento anche in maniera un po' mediatica nel senso che i giornalisti ci hanno voluto un po' marciare su sta cosa hanno voluto creare un po' di attrito tra le società tra le squadre tra i tifosi perché sì poi vabbè lui secondo me lì ha sbagliato su questa cosa qua ma era inutile cioè secondo me se l'offerta infatti l'Atalanta accetta perché conviene a tutti perché l'Atalanta si libera di un giocatore che è comunque scontento gli aveva promesso di andare via e lo manda via alla cifra che voleva un'ottima cifra la Juve prende un centrocampista fortissimo lui fa anche un salto di qualità in un certo senso come come livello di squadra stipendio che guadagnerà cioè ci guadagnano tutte queste operazioni infatti secondo me alla fine era chiaro che si facesse quindi si è creato tanto cioè c'era sempre quel in realtà l'Atalanta non te lo dà ma non aveva senso questo ragionamento secondo me perché era chiaro che all'Atalanta convenisse anche cederlo quindi più che altro l'Atalanta aspettava un'offerta buona come quella che è arrivata come quella che è arrivata in queste settimane qui e la Juve non poteva permettersela prima perché doveva prima sistemare alcune situazioni gli esuberi eccetera adesso sta iniziando a piazzarli o appunto banalmente con Cesni ha risolto il contratto con Chiesa potrebbe si parla adesso di Barcellona si parla di Liverpool quindi anche lì Costi c'è in uscita Costi Artur eccetera eccetera le situazioni da risolvere ce ne sono e per questo la Juve non ha affondato subito ha fatto quell'offerta lì l'Atalanta prima giustamente ha pensato a il sostituto ha preso chi doveva prendere e adesso si è fatta quindi è un'operazione che chiaramente si poteva risolvere con molte meno molto meno polemiche molto meno attriti di quante non ce ne siano stati secondo me perché appunto è un'operazione che fa bene a tutti e credo sia stata una cosa più mediatica che tra le società vera e propria cioè non credo che Giuntoli e Marino o Percassi abbiano litigato su questa cosa qui è vero che però Coopmaners ha fatto questa cosa del questa questa roba qui però se ci pensate anche i Gasperini non ha fatto dichiarazioni contro Coopmaners cioè l'ha spesso addirittura in un certo senso difeso ha fatto capire che in realtà era la scelta dettata probabilmente dall'agente sappiamo che gli agenti insomma nel calcio hanno ogni tanto queste queste iniziative qui insomma vabbè al di là di tutta questa polemica e questo teatrino che si è montato alla fine l'operazione si è fatta come si pensava e insomma è un'operazione che fa contenti tutti per cui cosa ne pensate perché partiamo sempre da un discorso che faceva Manfred in chat che è interessante uno spunto perché lui diceva secondo me è leggermente sovrapprezzato ma la vera domanda è esiste un centrocampista più forte e funzionale per Motta a quel prezzo perché i prezzi li fa il mercato e ad oggi per me la risposta è no siete d'accordo? Sì sì assolutamente se tu hai la Premier che diciamo un po' è densa di questi centrocampisti polivalenti dai tanti gol dai tanti assist che quasi sembra degli attaccanti con me mi sembra la scelta migliore che si potesse fare sono rapprezzato fino a un certo punto perché poi alla fine parliamo di un giocatore che ha segnato 26 gol e ha messo al segno 10 assist solo in Serie A con la maglia dell'Atalanta in tre stagioni ricoprendo più ruoli quindi mediano centrale e trequartista e poi ha ampiamente dimostrato di essere una scheggia insomma quindi un punto in più dal punto di vista dei piazzati cioè uno che ha un piede educato preciso deve migliorare magari nell'aspetto della gestione dei cartellini perché a volte si condiziona la gara con dei cartellini un po' troppo diciamo irruenti soprattutto a inizio partita però è proprio il centrocampista che mancava alla Juventus che non avevamo da tanto tempo cioè con Meines è un po' anche un misto per caratteristiche di quello che era il centrocampo dei sogni che abbiamo avuto nelle stagioni 14-15 eccetera cioè per alcuni punti è Vidal perché si inserisce calcia eccetera per altri ha la tecnica comunque di Claudio Marchisio per altri punti ancora la dinamicità di Pogba quindi comunque inserito in un contesto tattico funzionale ai centrocampisti perché Tiago Motta abbiamo visto che al Bologna ha fatto fortuna proprio quei centrocampisti Ebischer e Froiler ma Ferguson che faceva da collante e sarà così anche alla Juve probabilmente Luiz Fagioli Turam Locatelli e il Kogmenes che farà secondo me il titolarissimo di questa squadra io ci ho sperato tanto che arrivasse ed era chiaro già inizio mercato che non si sarebbe usciti fuori dai 50 e passa perché si provava sui 40 45 però se devo dire la verità ci sono sostituti è tanto sì ma ci sono sostituti come dicevano appunto in chat io penso di no cioè almeno che la Juventus domani non si sveglia e dica prendiamo Valverde mi sembra esatto anche lì mi sa che costa anche di più è capito parecchio e poi non so se era il Madrid lo cede comunque vabbè è chiaro mi sembra sì 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 per dire per arrivare poi al punto di Manfredo cioè non c'è di meglio sul mercato di fatto no non c'è di meglio ma non è che non c'è di meglio e quindi la Juve si deve accontentare di Cobb Miners Cobb Miners è il meglio ed è già il centrocampista più forte che ha la Juventus Cobb Miners è almeno per gli standard della Serie A è un fenomeno non lo dico io perché l'ha preso la Juve quello che ha fatto l'Atalanta è sotto gli occhi di tutti è un giocatore che sa impostare sa difendere sa gestire il pallone sa segnare ragazzi Cesarone l'ha detto prima 26 gol in tre anni di Atalanta per un centrocampista sono tantissimi solo in Serie A eh solo in Serie A che poi ne ha segnati altri anche solo in Serie A se andiamo a vedere anche le coppe europee probabilmente sono di più o la Coppa Italia non lo so è un giocatore che alza tantissimo il livello della squadra che viene pagato per quello che ha mostrato perché è giusto secondo me è giusto che l'Atalanta abbia fatto determinate richieste per Comminers perché appunto è un giocatore possiamo dire è il migliore giocatore dell'Atalanta sì se non è se non il migliore comunque uno dei migliori uno dei migliori insomma Luckman Ederson insomma però mi sembra mi sembra scontato che l'Atalanta chieda questi soldi è giusto che gli chieda e come hai detto te purtroppo la comunicazione giornalistica ha creato una sorta di faida per una questione che non c'era perché una persona normale sa che l'Atalanta deve chiedere quei soldi e sa che la Juventus se lo vuole deve spendere quei soldi al massimo le questioni sono altre ma infatti è una roba e su Conminers mi sembra proprio inutile anche parlarne perché lo conosciamo tutti è fortissimo cioè la Juventus il dato oggettivo è che la Juventus prende un giocatore forte e che per qualità per caratteristiche inserisce perfettamente nello scacchiere di Motta perché se Motta ha bisogno di metterlo come trequartista perché ha bisogno delle sue verticalizzazioni lo mette trequartista se Motta ha bisogno di un palleggiatore in più lo fa arretrare a centro campo io azzarderei a dire che se la Juventus si trovasse in una situazione di emergenza totale lo potrebbe pure mettere a destra chiaramente non con la licenza di attaccare e di correre sulla fascia ma con quella di rientrare sul mancino che è un giocatore polivalente e la Juventus fa un colpo da 90 anzi mi sento di dire negli ultimi anni è l'acquisto più importante che ha fatto la Juventus per status non lo so perché giustamente Poco e Di Maria avevano uno status superiore a quello di Conminers ma lo stato del momento attuale Conminers secondo me arriva in una condizione ancora superiore di Vlaovic secondo me sì per status di partenza per status di partenza perché Vlaovic comunque sia arrivava da anni fenomenali alla Fiorentina ma arrivava come giovani prodigio esatto questo arriva dal giocatore affermato fatto e finito però fatto e finito che può ancora dare tanto rispetto appunto ai vari Pogba ai vari Di Maria quant'anni ha? 27 anni? 26 26 26 quindi parliamo di uno che ha almeno 10 anni di carriera ad altissimo livello eh tra l'altro non ha partecipato non ha partecipato agli europei per infortunio ma titolarissimo della nazionale olandese e anche questo va considerato è un giocatore di status e tra l'altro meriti all'Atalanta per aver preso un giocatore dalla Zeta Alkmar e averlo reso questo giocatore qua ma ora secondo voi l'Atalanta lo sostituirà perché si parlava prima che andasse al Brydon di O'Reilly però adesso che è stato ceduto e hanno acquistato altri calciatori cioè secondo me l'Atalanta resta così in quella zona di campo? secondo me ha preso Copmanners poi ha preso una marea di tre quartisti quindi da quel punto di vista rimarrà così a meno di altre uscite a sorpresa e prenderà qualcuno appunto come diciamo in difesa cioè rafforzerà altri reparti ha preso Bellanova con quei soldi cioè anticipando quei soldi comunque noi di Catenaccio e Contropiede ieri abbiamo anticipato un tema che è stato subito risolto da Marino che ci segue eh ha preso probabilmente che hanno preso Cusunu insomma quasi fatta Cusunu dal dal baiere Leverkusen perché mancava il difensore no dicevamo mancava il difensore alla fine è un buon difensore Sì c'è c'è questo aspetto anche delle punizioni che dice Chris alla quale però ti aggiungo una cosa comunque c'è Vlaovic che insomma come punizioni non è messo male oltre ai due centrocampisti che tra l'altro io penso che stava segnando le punizioni esatto sì le lascerei almeno diciamo più a Vlaovic che a Fulmenes nel senso che Vlaovic ha dimostrato di essere un cecchino cioè Vlaovic è veramente molto bravo però ecco avevano un altro che mi mette di tirare in zone di campo differenti in modi differenti sì magari Vlaovic nella conclusione diretta è fortissimo sulle punizioni però appunto avere un Cogbiner se una punizione della tre quarti è una punizione laterale di quelle che devi mettere in mezzo è un piede educato in più che vai a mettere in mezzo a questa batteria di tiratori ma anche Nico González può avere un ruolo importante sotto questo punto di vista tra l'altro tutti i mancini e secondo me è un bene io penso che i giocatori mancini siano più belli da vedere ecco io ho questa idea beh sì tendenzialmente sì funziona un po' così di solito e ma Giorgio Cellini compreso ma allora la questione è e ve la faccio anche perché avendo preso al fantacalcio ieri ci pensavo dicevo mi devo spaventare perché se tu metti Copmers nella tre quarti Hildiz che ha fatto il tre quartista finora che ruolo avrà? giocherà di meno giocherà più sull'esterno avrà un ruolo più marginale potrebbe addirittura retrocedere come come girarchie di fatto diventare una riserva per quanto non abbia senso perché poi giocano tutti eccetera oppure comunque avrà un ruolo principale assicurato tra virgolette secondo me Hildiz se non è il tre titolari è il dodicesimo cioè è quel calciatore a cui non puoi rinunciare per qualità per caratteristiche e anche per diciamo status all'interno della squadra nel senso che io vedo più Tiago Motta diciamo che rinuncia a magari a Nico o a Consesau utilizzandole come arma in corso che ad Hildiz stesso poi appunto secondo me fare parallelismi col Bologna di Motta non è sbagliato perché lì non parliamo di tipologie di giocatori parliamo di ruoli e di compiti dati ai calciatori e se abbiamo detto che Copmenes può avere il ruolo di Ferguson Hildiz può avere appunto diciamo quello che era il ruolo di diciamo di 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 Ossolini magari di Fabian cioè la titolarità non sempre assicurata ma alla fine dei conti poi alla fine della stagione vedi che hanno 4, 5, 6, 7 assist 8, 9, 10 15 gol fatti cioè Hildiz se gioca la sua seconda stagione tra i professionisti e a fine stagione mette a segno 10 gol e 10 assist io penso che si possa definire Hildiz per non provare un'ottima stagione poi è chiaro avete visto Hildiz quanto è migliorato dal punto di vista proprio della personalità cioè adesso io lo vedo proprio inserito come se fosse un veterano della squadra non che gli mancasse prima non che gli mancasse esatto non che gli mancasse adesso non è più il giovane ragazzino che entra adesso è Hildiz è il titolare della Turchia adesso c'ha c'ha uno status è quello che c'ha uno status proprio affermato quindi secondo me poi con i 5 cambi con le partite che ci sono da giocare a fine stagione a fine stagione Hildiz avrà giocato più di 30 partite come ne avrà giocate più di 30 Nico come ne avrà giocate più di 30 con Seisao cioè quindi con i 5 cambi e con questa perché ragazzi qua parliamo di una squadra che la rosa è la Juve almeno sulla carta c'è una rosa che veramente non avevamo da tempi proprio passati cioè noi abbiamo una squadra che veramente può contare su dei giocatori assurdi ma in tutti i reparti in tutti i ruoli cioè dalla porta in cui sempre abbiamo comunque Perino come secondo portiere che è un lusso per tutta la Serie A figuratevi se non parliamo appunto diciamo degli altri reparti forse 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 se proprio vogliamo essere pignoli l'abbiamo detto così come l'Atalanta anche la Juve per il bisogno del centrale difensivo in più e della punta in più però appunto se tu hai Nico Concesaro Copmenes Milik e Ilditz non mi faccio il problema che manca la punta di ruolo come avevamo che è l'anno scorso cioè ben venga avere questi giocatori che possono supplire in emergenza al ruolo di punta se ti manca piuttosto che avere la punta magari di livello un po' più basso quindi secondo me su Ilditz va affermato proprio il punto che a me non dico secondo me lascia sempre il tempo che trova al discorso dei numeri ma non quando si tratta della 10 se Ilditz ha preso la 10 nella Juve vuol dire che Ilditz è un irrinunciabile e lo è anche per un'otta io non cioè su Ilditz non avere proprio preoccupazioni di alcun tipo giocherà e farà benissimo ma proprio giocherà tutte le partite è uno dei fulcri di questa squadra ma non ci sono proprio discussioni secondo me sotto questo punto di vista vi aggiungo una cosa su Ilditz tra l'altro scusami ti interrompo due partite eh stavo dicendo questo due volte 90 stavo dicendo questo no non volevo perdona no vabbè siamo collegati abbiamo fatto la stessa pensata no il discorso che facevamo è che non è solo una questione di personalità il fatto è che ha fatto due partite dall'inizio alla fine l'anno scorso non le ha mai fatte cioè questo è un fatto oggettivo oggettivo esatto io avevo visto una foto era un meme di questa della squadra la Juve messa in campo ieri con tutte quante le sotto la fotina del calciatore tutte le cose che sarebbero successe se fosse stata allenata ancora da un altro allenatore senza dire il nome perché non l'abbiamo mai detto se non sbaglio in questa live e c'era scritto Ilditz gli ultimi 15 minuti Vlavic è uscito al 65esimo rigore sbagliato eh Savona e Magulà non in campo e muoio un meme muoio un meme però in realtà è completamente veritiero cioè il meme ha parlato la lingua della verità e noi queste cose le dobbiamo segnalare perché se tu fai giocare a Ildiz due partite di rilevare consecutive gli hai fatto praticamente tutto quello che non ha fatto la scorsa stagione ma infatti Ildiz a un certo punto ieri ha fatto la mezzale in alcune parti della partita ha fatto l'esterno sinistro ha fatto il trequartista ha fatto la secondo me è proprio lui il giocatore più polivalente della Juve ma infatti per me sarà il vero insostituibile di questa squadra perché può fare tutto a seconda delle necessità della partita a seconda delle richieste dell'allenatore cioè se Tiago Motta ha bisogno di una squadra che gestisca di più il pallone a centrocampo perché gli avversari sono difficili da penetrare Ildiz gioca più dietro se Tiago Motta ha bisogno di una squadra più verticale dove si vada a puntare l'uomo Ildiz gioca in avanti perché è un giocatore che è capace di fare tutto quindi si goda è bella la nuova maglia della Roma no rispondo rispondo al principe visto che ha aperto questa parentesi dicendo che comunque settimana prossima probabilmente faremo il torneo sulle maglie quindi giudicheremo tutte le maglie della serie A e leggeremo la migliore anche quest'anno come l'anno scorso che vinse la Sarnitana avevamo detto giusto l'anno scorso con la prima maglia che poi non è andato bene quindi abbiamo portato sfiga quindi attenzione a chi reggeremo e invece Sancho cioè Sancho è una necessità secondo voi oppure effettivamente diventa addirittura un po' poi chiaro che guarda chiederlo a un tifoso e poi giustamente mi risponderete beh non è che mi lamento se arriva Sancho però appunto avrebbe a senso buttare dentro un altro giocatore serve oppure secondo voi è meglio sarebbe stato meglio investire sarebbe meglio investirli su qualcos'altro su un centrale come abbiamo detto oppure poi per me Sancho è fortissimo voi lo sapete io lo amo alla follia quindi non è che lo dico per criticare il giocatore con Nico con Zesao Bangula stesso ci metta anche Ua perché mi sembra un giocatore su cui Motta punta veramente tanto è chiaro che Sancho sembra di più no anche numericamente parlando ma se tu hai la possibilità di prendere Sancho in prestito tu prendi Sancho in prestito Di Massio tra l'altro ha appena riconfermato che la Juve ci sta provando cioè è è un giocatore talmente forte che se c'è la possibilità di prenderlo non prenderlo diventa un errore esatto cioè secondo me il discorso si può concludere qua perché parlare delle qualità di Sancho della bravura e del fatto che sia semplicemente stato rovinato non me ne voglia Cesario della squadra più disfunzionale dell'ultimo decennio di calcio europeo è un dato oggettivo è un dato ma basta vedere quello che ha fatto negli ultimi sei mesi in una squadra che che ne ha esaltato le qualità tra l'altro un altro dei giocatori che si poteva pure convocare per gli europei ma vabbè questo è un altro discorso che non andiamo a riaprire vabbè Sancho è un fenomeno Sancho è veramente un fenomeno Sancho fino a prima del Manchester United era considerato l'esterno più forte del mondo tra un po' e da 24 anni quindi quindi è recuperabilissimo quindi non vedo alcun non c'è un motivo uno per cui Sancho non debba cioè per cui l'Ajventus non debba provare a prendere Sancho ripeto in prestito perché poi chiaramente se andiamo a vedere il mercato che è stato fatto molto dispendioso e mi dicessero l'Ajventus va a prendere Sancho però lo deve pagare 80 milioni ti dico non lo so se conviene ma a queste condizioni conviene sì ma tu sai come la penso comunque c'è scritto pure un articolo su Sancho l'ho scritto tra l'altro pochi mesi fa proprio perché se ne parlava in ottica Juve perché vedevo molta quando se ne parlava se ne parlava poi è andata al doc però si parlava a gennaio scorso e volevo un po' infatti il titolo dell'articolo era tipo che cos'era Ajventus Sancho prima di Manchester una roba del genere adesso non mi ricordo di preciso e ho raccontato un po' tutta la sua storia tutto quello che è stato cioè ragazzi parliamo di uno che faceva 20 gol 20 assist in stagione a 21 anni cioè una roba fuori di testa ma anche lui triplomane salta l'uomo un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra cioè un giocatore completissimo se arrivasse Sancho la Juve avrebbe una panchina clamorosa cioè se tu ipotizzassi semplicemente una titolarità di non lo so Vlavic Kokmenes Sancho e il list che tu avresti in panchina con Seisaro Nico González Mangula 2 tra Fagioli Logadelli eccetera eccetera Douglas Luiz e tu eravamo in panchina cioè è una roba che era inimmaginabile prima di diciamo di questa stagione vabbè era inimmaginabile anche perché prima le richieste erano Buonaventura e Pereira quindi però guarda Ale hai presente quelle foto che mettono le pagine magari sai quelle proprio dei tifosi delle squadre su internet su Facebook tipo inizio mercato fanno la squadra la Juentus come potrebbe essere e ti mettono tutti questi nomi esagerata alla fine quest'anno non ci sono hanno preso tutti i nomi che poi sono usciti fuori ah così c'è il discorso solo Calafiori che è saltato solo Calafiori ma perché è stato un incidente è stata una valutazione sbagliata però si è preso anche Calafiori eh però ma sarebbe stato stupendo no appunto però diventava appunto come diceva Cesare una roba quelle foto no ecco diciamo da all star team non so a che punto della live siamo però questa questa cosa me la voglio questo sfizio questo sassolino me la voglio togliere da segretario del partito di sua rappresentanza è giuntoli è sopravvalutato è giuntoli comunque sia ha fatto gli acquisti e poi si è addormentato revisionismo storico su giuntoli da parte di alcuni tifosi di squadra che l'hanno avuto come direttore sì a parte c'è stato un revisionismo storico imbarazzante nei confronti di uno dei due principali artefici dello squadetto del Napoli però su questa cosa non mi voglio pronunciare perché non mi voglio prendere inemicizie però giuntoli sta facendo un lavorone da quando è arrivata la Juventus un lavorone e lasciati stare il calciomercato dell'anno scorso non poteva essere quello di quest'anno per una serie di motivi perché la Juventus non si era qualificata per altri motivi alle coppe europee perché c'erano diverse richieste anche da parte dell'allenatore eccetera quest'anno giuntoli sta lavorando e sta lavorando molto bene poi si poteva fare tutto con qualche settimana d'anticipo assolutamente sì però non è che il calciomercato è FIFA che se io voglio Cop Miners lo prendo e fine ci sono le trattative ci sono le altre squadre ci sono degli equilibri ci sono i contatti con i giocatori non è sempre facile fare il calciomercato ma quando uno sbaglia va detto che sbaglia quindi se poi la Juventus dovesse fare se il calciomercato della Juventus si dovesse rivelare fallimentare nel corso della stagione saremo qui a dirlo però sulla carta almeno sta facendo un lavoro eccezionale la Juventus non poteva essere completa il 25 di luglio pensarlo era da folli etichettare Giuntoli come un incompetente come ho letto più e più volte un sopravvalutato perché questo non è accaduto è da persone disoneste intellettualmente andiamo a vedere il calciomercato che ha fatto la Juventus e come lo ha fatto a livello di prezzi di trattative eccetera Giuntoli sta facendo un lavorone un lavorone e secondo me lo sta facendo anche nelle cessioni ma questa è perché noi non è facile non è facile piazzare certi giocatori della Juventus attenzione perché ora sono tutti buoni a dire scusami ci tengo a dire una cosa adesso ti lascio la parola che è una premessa a quello che stai per dire sono tutti i giocatori quasi tutti i giocatori sui quali comunque lui non ha responsabilità perché non li ha presi lui c'è Artur che è difficilissimo da piazzare è un'operazione di paradici folle dell'epoca quindi si lamenta perché l'hai venduto De Sciglio ma chi con tutto rispetto ma chi lo compra De Sciglio Artur si ma gratis però ci sarà Artur che guadagna sei milioni l'anno mi pare cinque e mezzo sei milioni l'anno chi lo può mai comprare a titolo definitivo sono tutte cose che vanno messe in conto poi purtroppo è facile ragionare ma andiamo a vedere chi ha venduto la Juve Ken che è un attaccante che magari alla Fiorentina si rilancerà però che oggettivamente non segnava da un anno e mezzo ed è un attaccante venduto a 13 milioni più 5 di bonus sono tanti soldi c'è stato il riscatto di De Winter sole a me piace tantissimo io credo che sia un giocatore dalle infinite prospettive però se la Roma ti offre quasi 30 milioni per un giocatore che ha fatto un anno buono al Frosinone tu lo vendi perché è una plusvalenza piena perché non è un giocatore che tu hai pagato e devi riacquistare sole sono non lo so 28 milioni non mi ricordo qual è la cifra esatta di plusvalenza piena è una cessione capolavoro così come una cessione capolavoro la cessione di Oisen ha quelle cifre lì sono tutti acquisti di cui non si parla oppure che si dice eh però sono giovani perché non ci hanno puntato ragazzi però un conto è puntare sui giovani io sono d'accordissimo che bisogna farlo un conto è anche saper sfruttare le opportunità di mercato perché per quello che hanno dimostrato questi ragazzi che ancora è poco nonostante abbiano un talento infinito ci metto di mezzo anche Iming che a me piace molto queste sono cessioni di altissimo livello che le fa un grande dirigente per come la vedo io poi non abbiamo ancora venduto De Sciglio ripeto se siete bravi vendetelo voi De Sciglio perché io non so come si possono vendere certi giocatori certo poi ripeto per raggiungere la perfezione del mercato chiaramente dovrebbe sbrogliare tutte le questioni in uscita secondo me in alcuni casi sono state fatte troppe poi non conosciamo le dinamiche magari in quali casi magari sono state richieste la cessione è stata chiesta e non imposta ad esempio Tiago Jaloi non so se è la Juve che l'ha messo alla porta o lui che voleva un ruolo da protagonista e ha detto preferisco andare via ad esempio per dirne uno che è di quelli che ha preso lui che mistero Tiago Jaloi che strano però è ancora della Juve ancora non è stato no però si parlava di Roma però adesso insomma si parla anche di altri giocatori per la Roma per cui non so e la Roma dovrebbe aver quasi preso Kevin Dans quindi secondo me l'unica critica che faccio aggiunto lì è che a volte che è stata una scelta della società proprio perché c'erano tante cose da fare secondo me a tratti nel mercato mi ha dato la sensazione di voler strafare cioè di voler fare troppo quando non era necessario esempio anche McKennie che era stato messo fuori rosa infatti poi è rientrato abbiamo completamente dimenticato McKennie in tutti i discorsi della Juve di quest'anno Tiago Jaloi secondo me potevi tenertelo o un Rugani come riserva o lui come riserva tanto non sono giocatori di cui cioè l'hai rinnovato pochi mesi fa Rugani si è dimezzato lo stipendio te lo potevi tenere come ultimo delle riserve secondo me ad esempio quindi era un po' questo il discorso poi se effettivamente se riesci a pezzarli tutti poi è mercato da 10 allora giusto così e c'è da sbrogliare poi i casi soprattutto quelli più importanti cioè Chiesa che è quello che pesa di più e al momento è fuori rosa a livello di di peso economico dico e Artur che chiaramente è un giocatore che è fuori progetto da anni no Chiesa è per il momento l'elefante nella stanza diciamolo ma poi dove piacerebbe al di là del discorso Juve secondo me è puro rilanciarsi anche per l'Italia no ma Chiesa è fortissimo il problema di Chiesa è che è stato consigliato male lui ha sbagliato perché doveva rinnovare allora ragazzi a me Chiesa piace da morire per me è un giocatore non forte è fortissimo però chiedere un aumento ad una squadra per me Chiesa è più forte dei questioni che abbiamo preso quest'anno anche secondo me anche secondo me però chiedere l'aumento ad una squadra che ti ha aspettato per due anni in una situazione difficile secondo me è scorretto è una follia no è scorretto è scorretto non è che se il giocatore mi piace devo dire che si comporta bene si è comportato malissimo per quanto mi riguarda però questa cosa l'ha anche svalutato e Chiesa adesso deve fare i conti con il fatto che è un esubero in una squadra in cui poteva benissimo giocarsi le sue carte perché se mi avessero detto la Juventus non prende Nico Gonzalez ma si tiene Chiesa io ero più contento perché Chiesa per me è più forte di Nico Gonzalez allo stato attuale di cose è più forte anche di Concei Sao dove mi piacerebbe vederlo per il futuro secondo me è un giocatore più da Liverpool che da Barcellona Chiesa con il Bar... cioè a parte proprio per il tipo di giocatore che è non ce lo vedo col... non lo so ma poi io sono preoccupato per Chiesa se andasse al Barcellona e poi Chiesa dovrebbero tesserarlo e poi Chiesa secondo me quanti mesi ci vuole prima di tesserarlo devono pagliere lo stipendio al magazziniere è un giocatore da Premier League cioè Chiesa in Premier League fa doppia-doppia con la sigaretta in bocca cioè pensate poi in una squadra come... più che altro non so se farebbe il titolare a quel punto nel Liverpool perché con Luis Dias a sinistra insomma parte dietro secondo me però sì se facesse una stagione da titolare effettivamente secondo me in senso assoluto non è inferiore a Luis Dias è fortissimo a me sì invece no non lo so sì no non so se 10 categorie come dice il commento però no ragazzi dai però è più forte torno comunque qualche anno indietro ricordo però di Sari questa squadra inallenabile ecco siamo ripartiti da lì abbiamo tolto gli uomini non allenabili che magari con Allegri potevano anche stare in un calcio moderno europeo non hanno cittadinanza tanto si sente sta passando la moto il moto mondiale finalmente abbiamo una rosa di uomini allenabili sì effettivamente ma infatti c'è stata molta c'è stata molta epurata la squadra da questo punto di vista tra l'altro posso togliermi veramente un sassolino come si sta bene al 27 agosto dopo due mesi dall'inizio del mercato sapendo che un centrocampista francese di nome Adriano di cognome Rabiot il giocatore più sopravvalutato del calcio europeo è ancora senza squadra come si sta bene guarda c'è un caldo che si muore ma si sta benissimo se io penso questa cosa ho l'aria condizionata come si sta bene per me era una follia se la Juve l'avesse rinnovato abbiamo parlato all'epoca i giocatori non consigliati male ma proprio cresciuti male un saluto a Veronique